Non bastavano gli episodi di inciviltà e rifiuti abbandonati. A Mistretta si devono fare i conti anche con vere e propri atti di vandalismo. La segnalazione ci arriva di nuovo dalle piazzette che si trovano ai piedi del castello di Mistretta e qui, oltre a sporcare e inquinare, qualcuno ha anche distrutto alcune delle panchine in pietra posizionate in questo spazio. Una situazione assurda, per certi versi surreale, perché non si sa come abbiano rotto una panchina in pietra, ripetiamo, in pietra, rompendola in tanti pezzi. Un'ennesima dimostrazione di come a Mistretta ci sia un vero e proprio allarme di assenza di senso civico e rispetto per la propria città, perché, come già detto in passato, alle azioni civiche di alcuni cittadini fanno da contrattare questi atti di inciviltà e di vandalismo, che deturpano e rovinano un paese. Alcuni testimoni ci dicono che arrecarsi in questi spazi nelle ore notturne sono soprattutto gruppi di giovani, che vanno anche presso la sommità del castello, per la cronaca hanno sporcato anche lì, e che organizzano delle vere e proprie scampagnate, con tanto di pizze e birra al seguito. Peccato che poi le rattine e i cartoni di pizza vengono lasciati a terra e non raccolti, come testimoniato qualche giorno fa dalla nostra emittente. A proposito, ieri sera una cittadina si è armata di scopa, palette e sacchi e ha ripulito le due piazzette, che erano state ignobilmente sporcate nei giorni scorsi. Ma finché ci saranno gli incivili, chi li pulisce vedrà la sua azione come qualcosa di vano. Su Facebook i cori di indignazione si sono elevati. Ancora si aspetta la pulizia straordinaria di fine giugno, e siamo a luglio, ma c'è chi chiede anche che se vengono identificati coloro che sporcano e vandalizzano, vengano puniti in maniera esemplare, dalle autorità competenti. Forse solo così l'inciviltà può essere parzialmente debellata.